Un nuovo modello di scuola condivisa e diffusa per tutelare la crescita delle nuove generazioni nelle aree interne. È stato siglato tra il Politecnico di Milano e il Comune di Chiesa in Valmalenco, ente capofila di cinque comuni, un contratto di ricerca incentrato sulla scuola vista sotto la prospettiva di sistema di spazi per la comunità. L'iniziativa è stata promossa dalla consigliera regionale Simona Pedrazi. Il presupposto spiega che soprattutto nelle zone montane le dinamiche demografiche hanno un impatto rilevante sia sul funzionamento dei servizi sia sul patrimonio edilizio. Questo significa predisporre e redigere linee guida a supporto della progettazione degli interventi per il riuso e la valorizzazione degli spazi scolastici e della comunità in senso più ampio, quindi non solo la cittadinanza ma le eventuali organizzazioni esistenti. Il progetto si colloca in un quadro di riduzione della natalità che già pesa sulle scuole dei comuni della Valmalenco, oggi sottoutilizzate. Sicuramente, aggiunge Renata Petrella, sindaco di Chiesa, a ogni comune verrà lasciato un presidio scolastico o comunque di uso affine per tenere i paesi vivi. Questo necessiterà una programmazione anche per quanto riguarda il trasporto locale interno di cui ne potrà beneficiare l'intera comunità. Sono molto soddisfatto di quanto è stato fatto per iniziare lo sviluppo di questo plesso scolastico in Valmalenco, dichiara Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio. Il percorso intrapreso era necessario per un più efficiente e funzionale ripensamento delle scuole, sempre più urgente dopo i recenti dati demografici che non incoraggiano una scelta diversa. Il progetto inizierà a settembre.